Su che tipo di strumenti si stanno focalizzando i consulenti? Già durante il corso del 2018 abbiamo visto un'esigenza di protezione, quindi le persone sono più preoccupate dai mercati, cercano protezione e vanno sulla liquidità di fatto. Questo trend lo vedremo anche durante il 2019 e quindi è assolutamente importante cercare di canalizzare questa esigenza attraverso delle risposte concrete che noi attraverso il contenitore assicurativo sicuramente possiamo dare. Parlate di protezione, è un trend che avete riscontrato nella costruzione dei portafogli nel 2018 e che vi aspettate proseguirà anche nel 2019? Sì, se guardiamo la raccolta, proprio in questi termini assicurativi abbiamo visto una diminuzione delle unit, quindi ad alto contenuto finanziario, un aumento delle cosiddette ramo primo, quindi a protezione. E questo trend lo vedremo durante il corso del 2019. È importante però capire che cosa c'è sotto, quindi la gestione finanziaria delle gestioni separate. E noi abbiamo un approccio molto disciplinato, dividiamo le nostre gestioni finanziarie e gestioni separate in tre blocchi logici. Una parte liquida investment grade, una parte liquida che fa parte in cui fanno parte anche i mercati emergenti e a yield, e infine una parte liquida con strumenti alternativi che ci aiutano però a mantenere costante e semmai a incrementare il rendimento atteso delle gestioni separate. Quindi protezione sì, ma con strumenti innovativi per il 2019. In che modo Eurovita supporta l'attività dei consulenti in termini di formazione, innovazione di prodotto? Noi siamo una realtà abbastanza giovane, nel senso che siamo nati nel primo gennaio del 2018, ma in realtà facciamo parte storicamente di tre compagnie che si sono unite e portiamo le esperienze di queste tre compagnie, esperienze ed eccellenze dal punto di vista operativo e dal punto di vista della gestione finanziaria. Li uniamo nella capacità di essere cosiddetti multispecialisti, quindi offriamo ai nostri clienti storici un'ampia gamma di prodotti che vanno dalla protezione al risparmio, all'investimento puro, alla parte assicurativa pura e ai fondi pensioni integrativi. Quindi noi quello che facciamo è dare a disposizione una vasta offerta con un ottimo livello di servizio, una gestione finanziaria flessibile, tutto questo attraverso un'attività formativa sul territorio che parla di pianificazione finanziaria, di pianificazione successoria e di ottimizzazione fiscale. Quindi lo spazio dedicato ai contenitori assicurativi e al nostro contributo verso il mercato può essere sicuramente importante per il 2019.